Vi ricordate del mio mega unboxing time o quello composto da tre pacchetti? Bene, oggi pacchetto numero tre. Prima di procedere vi ricordo che con il mio codice o utilizzando il link in bio potrete avere fino al 90% di sconto nel caso siate nuovi utenti dell'app. Vi mostro subito che cosa ho preso. Comincio con questa lampada Sanrio, si ricarica USB ma funziona anche senza essere collegata all'alimentazione. La luce è regolabile sia per temperatura che per intensità. Io ho scelto i lockitti ma c'era anche Kuromi ed era bellissima. Funziona sia come luce da lettura che come luce notturna e nella confezione è incluso il cavetto di caricamento. Adesso vediamo quanti invece riconoscono di che oggetto si tratta in questo caso. L'aspetto è quello di una borsetta retro, vi garantisco che è tutt'altro. Si tratta infatti di una mini cassa bluetooth a forma di borsetta, ai comandi laterali che vi permetteranno di regolare il volume oppure di scorrere tra i brani da riprodurre. Super portatile, carinissima, la guida del suono è davvero buona. E a proposito di articoli molto particolari forse neanche questo sarà facile da riconoscere, almeno non subito. Si tratta infatti di uno scanner portatile multilingua. Dal menu sarà possibile scegliere se scansionare un testo scorrendo con lo scanner sopra lo stesso, se tradurlo dopo averli inquadrato con la fotocamera o ancora se utilizzare il microfono per tradurre delle frasi pronunciate. Lo scanner provvederà a pronunciare la frase scannerizzata e fornirne la traduzione. Le traduzioni sono in genere molto buone sui testi semplici, va benissimo su libri, libretti di istruzioni e perché no anche in caso di viaggi all'estero. È possibile switchare tra tante lingue e volendo si può utilizzare l'app del produttore per gestire il dispositivo da smartphone. E per lo sconto del 90% non dimenticate codice e link in bio.